Eccoci qui in un altro video, oggi andremo a parlare proprio della competizione della skin di Greg Greg Prima di tutto la skin di Greg Greg non è solo così in questo stile come fanno vedere, ma appunto c'è uno stile secondario Che è tutto infocato, sembrava un demone diciamo, con delle sfere Le sfere, che ora vi faccio vedere, potrebbero essere il... cioè no, potrebbero essere solo il suo zaino E abbiamo, che è una cosa fighissima, come piccone potremmo ricevere questo piccone con appunto la forma di un joystick Tutta sul arancione e rosso, ovvero sui colori Però, cosa succederà? Come potete partecipare? Prima di tutto, nella sezione competi, fra un giorno ci saranno queste due interfacce Non so perché a me sono bianche, ditemi se anche a voi risultano bianche Che comunque dovrebbe essere una da fare in squadra e una da fare in singolo Che sono tutte e due tra un giorno Cosa succederà? In pratica voi dovrete sfidarvi utilizzando solamente esplosivi E il pavimento, piano piano, di tutta la mappa Vi faccio vedere le prime foto Comincerà a colare lava partendo da tutta la parte del mare Fino a tutti i fiumi E poi la mappa diventerà così, cioè praticamente tutta lava Chi sarà il vincitore e riuscirà a beccarsi la skin Però, ora ve li cerco In pratica c'è un tot per gli europei, un tot per l'asia E tutto, quindi ora ve li lascio ogni volta che clicco questo tastino E questo è quanto Per la skin Per prendere tutto quanto Cioè, sia skin, sia lo zaino E sia, stavolta, il piccone Quindi di conseguenza prendete tutto quanto In modo gratuito se riuscite a vincere Ovviamente per la skin Dovrete salire per un tot Per avere tutto il resto Dovrete salire ancora, praticamente Ok, per questo video è tutto Per sapere di più Vediamo che è Ah, ok Era il concorso Vediamo, andiamo a leggere prima di tutto che dice Questa lezione inizierà per un giorno Ma non ci sono i dettagli Ah, ecco Vedi, punteggio Battaglie reale Top Questi sono tutti i punti appunto Che daranno A ogni kill A ogni eliminazione Raggiungendo la top Comunque Per fare i punti Vi basterà fare queste cose Però Non ci dicono niente di questa cosa Non ci dicono niente Ve l'ho detto solo io No Ok Per vincere vi basterà esplodere gli altri Fare i kamikaze praticamente Per questo video è tutto Se volete mettete mi piace a questo video E per altri video mettete iscrivetevi al canale Se volete supportarmi Dato che non ho il negozio oggetti Potete mandarmi l'amicizia Io l'accetto a tutti E potete regalarmi una skin A vostro piacimento O un balletto Accetto tutto E per questo video Vi saluto Ciao ragazzi